Buonasera, come state? Volete vedere che stasera il Milan vince? Ragazzi, ci sono troppe coincidenze nell'aria che me lo fanno pensare. Volete vedere che il Milan oggi si toglie la prima e l'unica soddisfazione della stagione? Io ragazzi ne sono troppo sicuro. Troppo. Questa è Sam James Park, questa è la centodiciottesima live reaction insieme. Questa è la sesta giornata di Champions League. Questa è Newcastle Milan. Entusiasmo inferiore a zero ragazzi, comprensibile. Però il Milan è più importante del momento del Milan. Quindi che vada bene o che vada male, noi siamo sempre qui. E sappiamo quanto possa essere importante il tutto nelle giornate. Più che altro ragazzi, il non passare sarebbe un danno più che morale economico. Morale non lo so perché comunque va in Europa League che non la vincerai mai. Però almeno qualche partita più europea te la giochi. Andare fuori comunque ti permetterebbe di concentrarti solo sul campionato. Lasciato stare il fatto che facciamo schifo pure lì. Però il problema è che è una perdita economica molto, molto, molto enorme. E il problema è che non passare oggi avrebbe un impatto su dei futuri acquisti nel mercato. Il che non è roba da poco ecco. Loro hanno più fortunati di noi e vediamo chi è che li sa gestire meglio. Tutto qui. Hanno Dubravka in porta ragazzi. Hanno terzino sinistro Livramento che l'abbiamo avuto. Ora non so quanti di voi mi seguono da anni però si parla di un paio di anni fa. Quando facevamo la carriera con il Venezia avevamo terzino destro Tino Livramento. Un bomber assurdo. L'abbiamo migliorato un casino in quel gioco lì. Adesso i nostri terzini per chi guardasse la mia carriera con l'Andorra sono Fresneda e Max Johnston. Ho fatto una piccola digressione per chi volesse dare un'occhiata alla carriera nostra. Ve la consiglio perché è veramente bella. L'avere coprato Leao sicuramente è un punto di vantaggio però ragazzi. Tutto è da vedere. Abbiamo recuperato anche Okafor. Jovic è in un buono stato adesso. C'è da vedere. Tomori difidato. Non succede ma se succede che vinciamo e Tomori viene ammonito è la fine del Milan ragazzi. Si inizia ragazzi. Batte Giroud. Newcastle Milan. L'autosic è già un fallaccio. Mion. Tomori cazzarola oh. Madonna. Cazza fatto. Bah. Libramento. Fallo di Pulisic. Partiti a razzo questi eh. Partiti a razzo. Ma perché lo chiamate Pulisic cazzo. Allora posso capire un tifoso ignorante ma un giornalista Pulisic si chiama. Lo dice anche lui stesso. Pulisic. E se era della stessa razionalità di Vlaovic. Siccome è American si chiama Pulisic. Cazzo. Calcio di punizione. 26 metri dalla porta. Va. Trippiere. Potrebbe tirare e far gol eh. Trippiere. Prova lui. Testo fuori. Eh però l'ha tirata bene. L'ha tirata molto bene. Eh non male lo so. Lo so. Ragazzi non abbiamo toccato palla. Non abbiamo superato la metà campo. Nei primi 5 minuti. E 35 adesso. Non abbiamo superato la metà campo. Hanno il 98,5% di possesso palla questi. Potevamo vincere 2 a 0. A San Siro. E oggi essere tranquilli. Che più tranquilli non si può. Calabria. Se la famica porta via la palla. Beh subisce fallo. Poteva darla alleao e continuare l'azione. Ma vabbè. Bravo. C'è Pulisic. Dagli alla Pulisic. C'è Giroud. Lontanissimo. 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 Nessuno che va in centro area. Cazzo. Nessuno che va attacca al centro dell'area. Nessuno. Raga. Ternandez Centrale non funziona. Vabbè. Ve lo dico io. Ternandez Centrale. Mi prendo la responsabilità di dire questa cosa. Ternandez Centrale non funziona. Madonna. Che squadra sconnessa proprio. Raga. Che partita del cazzo. Lorenzi. Qua non c'è nulla. Dai. Ternandez. Bravo. Dai via la palla. Perché? Penti di passare in mezzo a due. Cioè ma io mi chiedo Pioli cosa sta facendo in panchina in questo momento qui. Madonna. Che schifo. Si va a quei cross adesso. Si va a quei cross di merda. Con 18 minuti di rotture di cazzo. Sta partendo Trippier. Il lancio per lui. Atteso da Florenzi. Si fila Miley. Trippier va a... Trippier dentro per Gellington. Incredibile. Cosa? Salvatore Tomori. Salvatore Tomori. Tre passaggi in porta. Tre passaggi in porta. Lo ripeto se non fosse chiaro. Per quell'allenatore di merda che ha il Milan. Tre passaggi in porta. Tre. E non ce la fanno. Non ce la fa a capirlo. Aveva ragione Allegri. Il calcio è un gioco semplice. Basta passare la palla a quello con la maglia uguale alla tua. Perché i giocatori del Milan neanche questo fanno. Neanche passare la palla a quelli con la maglia uguale alla loro. Non lo fanno. Ad abbracciarlo hanno risultato esattamente come se il Milan fosse andato in vantaggio. Musa bravissimo. C'è Leao. Scaricagliela. Leao destro! Strano. Abbiamo cominciato a sbagliare i gol. Strano. Strano. Era completamente solo. Poteva stoppare, dribblare, fare qualsiasi cosa. Ha preso la palla col piede apertissimo. Io veramente non lo so. C'è a volte io veramente arrivo alla conclusione che lo facciate apposta. Di sbagliare i gol. Lui soprattutto. Visto anche quello dell'andata. Vero? Tripper qua c'è un fallo! Fallo! Ok che siamo scarsi ma i falli sono falli cazzo! Vrae off to chic. Il te il velo, il tunnel. Ha aperto le gambe. Per farla andare a Pulisic. Stoppare! 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 Intanto la profitto per dirvi che lui non se n'è andato. Non se n'è andato. Mai se n'andrà. Anzi se n'andrà quando se n'andrà il soggetto in questione. Non se n'andrà mai. Neanche con la vittoria dello scudetto se n'andrà. Guarda che buco che c'è. Gordon. Apre. Miley. Miley. E voi siete così scarsi. Con un allenatore così di merda che non siete capaci di fare nemmeno quello. Gordon che spacca il centrocampo. Che dorme. Che dorme. Che stradorme. Questo fa un tiro che praticamente avrei fatto anche io probabilmente. e fa gol perché sei tu contro megnana praticamente perché la difesa col cazzo che ti affronta. E sei libero di fare quello che vuoi. E vi dirò di più. Uno del Milan lì gol non lo avrebbe fatto. Perché noi ci divertiamo a sbagliare con l'apposta. Palla dentro verso il giro. Una palla lì. Un cazzo di harem. La palla che sbatte sulla schiena di Tomori. Ma che cosa ho visto raga? Ma che cos'è? Ma che cos'è? Ma neanche a FIFA quando si bugga. Ah sì. Qua fallo di Leo per cosa? Giallo. Sì vabbè fischiamo tutto allora. Giallo. Raga giallo. Giusto per darvi un dato. 8 gol presi nelle ultime 4 partite. Giusto eh. Giusto un dato qualsiasi. Non mi dì che tira. Musa. No. No 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 no. Io dopo questo non voglio vedere più nulla. Musa che fa il passaggio pensando che Leo sia lì e Leo è dietro di lui. Questa è la raffigurazione più palese. I giocatori non sanno cosa fare in campo. E un altro errore di Loftus Chick. Dai così. Dai così. La saga dell'errore. Begnana. Qua c'è un fallo su Meignan clamoroso. Ci deve essere un giallo. Che viene dato. A Meignan. Perché protesta. Siamo alla fine ragazzi. Siamo alla fine. Stiamo toccando di nuovo il fondo. È un punteggio che è rimediabile. Quindi bisogna. Sì rimediabilissimo fra. Rimediabilissimo. Non si è fatto un tiro in porta in 47 minuti. Rimediabilissimo. Certo. Bello. Bello schifo. Partita da dentro o fuori. L'avete giocata peggio. Peggio della partita col Borussia Dortmund. Peggio. Iniziata signori. Autus Chick. Che cazzo del cazzo. Raso terra all'ultimo. Che cazzo del cazzo ragà. Calabria che fai? Non lo sbagli un altro passaggio? Certo che lo sbagli. Non lo venderanno mai. Come? Non manderanno mai via Pioli. Girù. Leao. Vediamo la cagata. Dentro. Verso nessuno. Verso nessuno. Verso nessuno. Abbiamo perso un'altra palla. Destro Wilson. Megnana. Quinto tiro in porta ragazzi. Quinto. Quinto. Abbiamo riperso palla. Che squadra del cazzo. Ma c'è un fallo. Giallo per Trippier. Ci hanno fatto dare un giallo anche a loro finalmente. Non l'ha dato. Non l'ha dato. L'ha dato alleao per un quarto di gomito alto. Non ha dato il giallo. Rimane in attacco. Musa. Preferisce ignorarlo. Leao posizione regolare. Palla dentro. Svirgolata. Gol. Ma qua l'annullano. Gol di Pulisic l'annullano. L'annullano. Fuori gioco di Leao. Ho detto posizione regolare ma è fuori gioco netto. L'annullano ragazzi. Vediamo un po'. Fuori gioco netto di Leao. Qua la posizione di Pulisic è regolare raga. Quella sì. Bella l'assist di Giroud ma qua ragazzi annullano tutto. Datemi letta. Annullano tutto. Gol buono. Ok. Gol di Pulisic. Bene così. Bene così. Vediamo adesso come ve la giocate. Dato che il primo tiro in porta in 60 minuti. Il gol più immeritato della storia. Praticamente è molto simile al gol che ha fatto Jovic a Bergamo. Mischia in area e la palla che arriva lì e la putta in porta. Correggo. L'ha sparata addosso al portiere che non l'ha trattenuta. Correggiamoci. Però questi dovevano lo fanno subito ragazzi. Palla dentro. Mignan. Wilson. Nelle sue spalle c'era Wilson. Per l'intervento di Mignan è sembrato... E Mila sta prendendo fiducia. Sta prendendo fiducia. L'offstucic. Giroud. Attenzione anche a Tomori. Tutti dentro. Parte il cross. Lorenzi. Attenzione Ghimaraes. Ghimaraes qua. Uomo a terra. Ma l'arbitro fa c'è... Uomo a terra. Dari messa dal fondo. Sarsi a terra Rhanders. Accusato da Maccheli di aver... Rhanders passala! Passa! C'è l'uomo a terra! Passa! Isaac fuori. L'uomo è cascato. Gli vai addosso. Passa! No! Passano mai la palla! Isaac. Nessuno lo affronta. Ghimaraes. Traversa Mignan. Cosa ha preso Mignan? E anche oggi, dopo la parata su Lukman, si fa sentire Mignan. Musa. Giroud. C'è Pulisic. Dagliela! Non gliela dà. Incredibile. Non gliela dà. Non gliela dà. Non gliela dà. Non gliela dà. Non gliela dà! Non gliela dà! Non gliela dà! Purisic che stava partendo da solo, non gliela dà! Non gliela passa! Non la passano mai! Non la passano mai! L'autoschicca. Leao solo La taggiru che è marcato Niente Niente L'Otus Cic sta facendo cagare la merda oggi Ogni palla che tocca è un danno Entra Pobega per l'Otus Cic Speriamo Bene Chi entra Pobega per l'Otus Cic Il problema è che Entra Pobega Che è scarsissimo Benazè non è in lista Jovic Passa E' giallo anche per lui Quanto sei coglione Bastara stoppare e passare No Accelerato Gli ha rubato Bala Ha fatto il fallo tattico Speramento sbaglia Leao Leao Vai 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 No Incredibile Nooo 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 E due E due con Quello dell'andata raga Due Raga se capitava Allora questo era gol Ancora prima che tirasse Ternandez Per le out Oh non metto una pala in verticale A moto Ternandez è incredibile Okafor Okafor C'è Cucuese e Celleau Jovic Allarga Cucuese 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 ancora Cucuese Cucuese Vi ammazzerei tutti Ma ve lo meritate Per il secondo tempo che avete fatto Vi chiedo scusa perché è arrivato un secondo tempo Pieno di errori Ma tanta roba Complimenti Tolta la traversa Tanti errori in fase di impostazione Tante palle verticali sbagliate Giusti cambi di Pioli Per una volta va detto Giusti cambi di Pioli E adesso speriamo nel Dortmund Ma la vedo molto dura Niente Jovic ha messo un altro assist Incredibile Deve fare quattro gol in Mina Per superare il PSG Adesso Un possibile Quattro di recupero Tanta roba Sale Dubravka È un'occasione troppo ghiotta Per non fare gol questa Palla dentro Dall'altra parte Joelinton A domestica Joelinton Cucuese Cucuese Contropiede Porta vuota Porta vuota Porta vuota Ternandez Non ci voglio credere Fai schifo al cazzo fra Fai schifo al cazzo Ma passa la Cucuese Fai schifo al cazzo Dopo questa devi stare in panchina tre partite Guarda Tomori Jovic Tre contro tre Vediamo come va a finire Jovic Dentro Tomori Polo E due Finisce qui Non so chi ha ben munito Ma ha fiscato la fine o no? Ha fiscato la fine Mi ha in Europa League ragazzi Goodbye Magpigs Cioè dal lato va bene Dall'altro è un problema Perché adesso non lo esonerano più Va bene però Avremo tutto il post partita Che adesso non registrare Per parlarne Grazie di essere stati con noi Ci vediamo per Monza Milan Che lì Torneremo sul pianeta Terra E vi accorgerete perché Grazie a tutti Alla prossima